a buongiorno 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 a tutti e bentornati sul canale beh innanzitutto vorrei farvi notare ancora una volta l'avevo già usata l'ambientazione ci sono youtuber facoltosi non è il mio caso che appunto nella loro ambientazione hanno tutte queste macchine rotanti per gli orologi io in mancanza della possibilità di acquisire tutte queste macchine rotanti di avere uno studio dedicato un watch studios appunto mi metto in questo contesto cioè anche qui ci sono delle macchine rotanti poi magari hanno un altro utilizzo e va bene questo è il preambolo ma bando alle ciance si dice in questo che in questi casi non più tardi di pochi giorni fa avevo fatto un video su orologi che non capisco e nella fattispecie ci si chiedeva in quell'occasione soprattutto in riferimento agli orologi dedicati ai personaggi dei fumetti ok anche qui si capisce dedicare l'orologio da pochi euro i personaggi dei fumetti si può capire l'orologio particolare quando voleva essere una provocazione quando voleva essere comunque un'innovazione come appunto quello di geragenta per quanto riguarda il personaggio walt disney si capisce un po meno quando si fanno degli orologi costosi in serie limitata dedicata così a dei personaggi dei fumetti ma ognuno come si dice con i suoi soldi compra quello che voglia ecco in quel caso si diceva come provocazione quando faranno l'orologio di super chuck piuttosto che dell'ando mitico fumetto degli anni 70 80 eccetera ecco non hanno fatto proprio questi ma vi racconto appunto una novità ebbene sì vi annuncio gaudio massimo come si dice in questi casi hanno fatto l'orologio di braccio di ferro e va bene e se ne poteva fare a meno certo che se ne poteva fare a meno e chi sono questi signori beh innanzitutto questa è una società che si chiama reservoir è una società francese che ha fatto diversi orologi interessanti a mio avviso tutti con il concetto dei minuti retrogradi e le ore saltanti vi do qualche informazione su questo simpatico orologio ma certo 41.5 cassa di diametro di titanio con un movimento appunto calibro rsv 240 su base ljpg 100 automatico con così proprietario nel senso che l'hanno sviluppato per quanto ottiene la parte del minuti retrogradi e jumping hour del saltarello insomma praticamente 28.800 vph 56 ore di riserva di carica la referenza se volete comprarlo è rsv 04 po barra 433 se volete comprarlo muovetevi datevi una mossa perché è in produzione limitata a 200 pezzi e il prezzo è soltanto 4.700 euro che insomma si può non avere un prodotto di questa fattura e di queste fattezze investendo soltanto 4.700 euro ecco mi chiedo anche un'altra cosa a questo punto quando c'è quella manella lì del signor braccio di ferro popay per gli inglesi e quando parte da guardate bene dove va il dito e la mano quando parte dai minuti zero non lo so voi ci andreste in giro con un orologio con un braccio di ferro che si infila il pollice no l'indice del vabbè ecco ecco i signori della ressarvoir avevano già fatto cioè come si dice ci torne no avevano già fatto con lo stesso principio un orologio dedicato agli eroi dei fumetti francesi sono una società francese morte blake and mortimer che sono questi due signori qua va bene e il principio è sempre lo stesso il meccanismo è sempre lo stesso per cui ore saltanti digitali concettualmente e minuti retrogradi da notare che comunque hanno fatto sempre con questa applicazione degli orologi comunque carini interessanti i prezzi sono sempre lì e siamo sempre intorno ai 4000 euro fatevene una ragione però niente non potevano fare a meno di fare l'anno scorso blake and mortimer e quest'anno braccio di ferro aspettiamo super ciucca voi direte tu non capisci queste raffinatezze perché sei povero povero dentro non soltanto di soldi eh sì è vero povero per povero però ragazzi scusatemi ma con tutte le critiche che mi potranno essere mosse in tal senso io capisco molto di più a questo punto la proposta che sto per farvi no scusate ho detto una stupidaggine che proposte io non ci guadagno niente io mi limito a segnalare delle cose per cui non propongo nulla ma a questo punto se ci avete da parte 200 euro piuttosto che 4000 per comprarvi l'orologio di Popeye abbassatevi inchinatevi alla cina alla cineseria di turno e appunto beccatevi questo pagani design con la funzione gmt visto così molto molto carino a 200 euro sulla baia dicono perché non crederci che monta l'nh34 cioè un nuovo movimento seico gmt e su questo ho trovato un articolo interessante se non sbaglio di luglio fatto da da amico orologiaio cesare insieme a marco bracca per cui ecco se è quello poi non lo so siamo sempre lì non è quello è un clone non funziona gli mettete su un nh34 vero e buonanotte suonatori ma comunque non trovate il link in descrizione perché a me che voi lo compriate o non lo comprate non me ne può fregare de meno però almeno questo ripeto colpa mia un po' di più lo capisco di certi esercizi da 4000 dollari ok capisco un pochettino di più e se ne è parlato tanto l'operazione dei rolex certified pre-owned appunto fatta da rolex rolex appunto sapete che ha circa il 30 per cento del mercato degli orologi in fascia lusso non lo dico io lo dice morgan stanley tant'è che hanno pensato bene di ragionare sul fatto che c'è un grosso mercato delusato e perché non metterci sopra le grinfie allora innanzitutto capiamoci questo non andrà a influire sul discorso delle liste d'attesa sui reseller perché assolutamente non incide su un discorso di quel genere lì non credo come ha sostenuto qualche collega che sia un'operazione per tenere da parte gli orologi e poi buttarli sul mercato anche perché insomma dovrebbero tenere lì tanto tempo e secondo me chi glielo fa fare tanto c'erano già chi compra e aspetta è un modo per entrare in questo tipo di mercato la qualcosa farà girare le scatole sicuramente a coloro i quali non sono pur essendo magari concessionari oppure già lavorando con rolex non sono però all'interno di questa ulteriore qualifica dei rolex certified pre-owned point concettualmente e temo che questa cosa per loro significherà per chi vorrà farlo significherà ulteriori ulteriori costi e ulteriori richieste di strutturazione del concessionario della gioielleria comunque insomma vedono loro e sicuramente a coloro i quali in buona fede e con qualche modo con propria professionalità vendono e commercializzano i rolex usati ci sono altri settori e ci sono altri ambiti in cui per sapere se è una cosa è più o meno originale se è una cosa è più o meno valida si va da un professionista conosciuto dall'orologio che lavora con rolex addirittura dal concessionario e pagando una cifra gli si dice per favore controllami che sia tutto originale controllami che sia tutto in buon funzionamento rolex dice ma per fare questa cosa che ci si guadagna poco quando posso veicolare il mercato dell'usato a casa mia e non mi sembra un'idea così stupida inizialmente gli orologi certificati rolex usato saranno disponibili presso le boutique di buchera in svizzera austria germania francia danimarca e united kingdom ok successivamente dalla primavera del 23 anche gli altri portano dire voglio anch'io diventare un punto rolex certify ad pre onet e va bene e per cui insomma cosa interessante è sicuramente una garanzia è sicuramente una cosa che determinerà un incremento di prezzo il mercato del secondo punto del secondo polso scusatemi è effettivamente un mercato che viene valutato intorno ai 35 miliardi di franchi praticamente entro il 2030 un altro studio cioè deloitte dice deloitte sono per capirci tipo gli amici di morgan steinway quelli che abbiamo detto prima ribadisce come a fare da traino di questa cosa ci siano sia quelli della cosiddetta z generation e i cosiddetti millennia cioè piacciono e interessano nonostante tutto anche ai ragazzini quelli negli anni 2000 ad oggi comunque il mercato degli orologi di secondo polso sia intorno ai 20 miliardi di franchi quindi signori stiamo parlando di un ambito sicuramente interessante sicuramente in crescita che altro dire vi posso dire che comunque rolex giravoce qui in svizzera che stia per investire un miliardo di franchi che come dire l'abbia detto un miliardo di euro per la realizzazione di un nuovo stabilimento di produzione in quel di bull nella svizzera occidentale cioè nel canton friburgo e che dovrebbe diventare operativo nel 2029 e che dovrebbe dare lavoro a circa 2000 persone e che significa che magari dal 2029 si potranno comprare senza o comunque con minori liste d'attesa e tanto agognati agognati orologi rolex anche qui però c'è una cosa che non capisco l'operazione la capisco benissimo ci mancherebbe altro pieno diritto e fanno anche bene di sfruttare questo ambito e potenzialmente anche se con un costo la cosa avrà dei vantaggi per i consumatori non capisco l'annuncio di cui avevamo parlato qualche mese fa in un video apposta che aveva fatto rolex di smettere la produzione dei pezzi di ricambio degli orologi neanche tanto anziani perché stiamo parlando di orologi che erano in produzione non più tardi di una quarantina di anni fa che nel secondo polso soprattutto per un orologio perpetual come i rolex che devono durare tutta la vita e magari più di una vita è concettualmente una cosa in contraddizione a pensar male si fa peccato ma di solito ci si piglia e che abbiano dismesso soltanto per i colori quali non sono ufficiali all'interno di questo discorso e per gli orologi indipendenti c'è da pensare va bene signori con tutte queste cose che non capisco adesso ho capito che è arrivato il caffè non posso che salutarvi solite cose metti mi piace oppure non metterlo iscriviti al canale oppure non iscriverti ma soprattutto trovati un lavoro di giorno che è importante grazie a tutti